Vocazione all'internazionalizzazione e all'approfondimento delle aree giuridiche e analitico-statistiche che afferiscono alla scienza politica. Queste le caratteristiche che costituiscono i punti di forza del Dipartimento di Scienze Politiche di Roma 3, presentato nell'ambito della tradizionale giornata d'orientamento organizzata dal Terzo Ateneo di Roma. Torna anche quest'anno il consueto appuntamento con Orientarsi a Roma 3, tra i dipartimenti presentati anche quello di Scienze Politiche. Quali sono le novità di questo Dipartimento, dell'offerta formativa di questo Dipartimento? Lei parla di novità, oserei dire che siamo la realtà più conservativa dell'Ateneo, nel senso che avevamo cambiato da poco l'offerta formativa e quindi abbiamo pensato bene che nel momento in cui cambiavano alcune strutture che non hanno a che vedere direttamente con la didattica era meglio tenere fermo invece il settore didattico, anche perché ne siamo sufficientemente soddisfatti in termini di risposta degli studenti che si iscrivono a tutti i nostri sei corsi di laurea, tra i triennali e i tre magistrali, sia in termini proprio di capacità, di lavoro didattico. Quindi non era il caso di cambiare. La novità invece, come era praticamente obbligato, riguarda la struttura. Nel nostro caso però possiamo dire che grossomodo il 90% dei docenti che facevano parte della vecchia facoltà di scienza politica e sono rimasti nel nuovo dipartimento di scienza politica e in più sono arrivati pochi altri colleghi, quindi si può dire che è una realtà che è cambiata veramente poco. Come molti sanno, la vera differenza sta nel fatto che la nuova struttura è erede contemporaneamente dei vecchi dipartimenti che si occupavano esclusivamente di ricerca e delle vecchie facoltà. Quindi un'unica struttura farà didattica e ricerca. Questa è la novità sostanziale. Per il resto, come dicevo, siamo stati molto conservatori questa volta. Perché consiglierebbe a uno studente di venire qui a Scienze Politiche a Roma 3? Lo stavamo dicendo prima nella conferenza stampa, diciamo, nella presentazione. Nel senso che sicuramente all'interno di questa facoltà, oggi dipartimento, cioè all'interno dei nostri corsi di laurea, ci sono moltissime competenze scientifico-culturali. Si va dalla competenza giuridica a quella storica, a quella sociologica, a quella dello scienziato politico, a quella dello statistico, a quella economica, a quella del linguista. Veramente non credo che ci siano altre facoltà così multidisciplinari. Questa può essere un'arma a doppio taglio, è ovvio. Il timore che alla fine uno non sia né carne né pesce, dall'altra invece la possibilità di essere molto più che carne e pesce, ma una sintesi particolarmente vincente a livello sia di soddisfazione personale, qui parlo di pura cultura, sia più concretamente di attività lavorativa. Indubbiamente, lo sottolineavano alcuni colleghi prima, a volte essere forti in un determinato campo, ma avere conoscenze anche di un campo diverso dal proprio, effettivamente offre molte chance in più al momento in cui ci si rapporta con gli ambienti di lavoro. Un consiglio alle future matricole che appunto si preparano a intraprendere questo percorso di studi? Un consiglio fondamentale che darei non solo alle nostre matricole, ma a tutte, è quello di prendere l'università molto più sul serio. Nel senso che, indubbiamente, questa è un'età in cui bisogna godersi un pochino la vita, però bisogna anche porre le basi della vita futura e quindi formarsi nel miglior modo possibile. Cioè non è che nella vita ci sono molte opportunità per fare uno studio regolare, completo, come si fa tra i 19 e i 23 anni. Si può studiare sempre nella vita, è chiaro, ma come si studia tra i 19 e i 23 anni credo mai. E quindi bisogna prendere molto sul serio quello che si fa. Nello specifico alle nostre matricole direi di non spaventarsi se tra le tante competenze, tra le tante materie che si troveranno davanti, ce ne sia una o due che mette un pochino paura. Anche l'ostacolo maggiore, se si insiste, se ci si impegna fino in fondo, se si sfruttano tutte le opportunità, tutti i servizi che la facoltà e i docenti possono offrire, alla fine viene superato. Quindi di non spaventarsi se il 20% della realtà didattica che si trovano davanti non è esattamente come quella a cui erano abituati o quella che si aspettavano di avere davanti.